La domanda è venuta fuori da una conversazione con un utente qua che mi segue su Instagram quindi invito anche te a cercare sulla pagina DJ Nature, anche su Facebook oppure a commentare qua nei video su YouTube dopo esserti iscritto e cliccato sulla campanellina per ricevere subito gli aggiornamenti La domanda è la seguente Esiste la tecno-commerciale? Ci sono due presupposti Prima di tutto commerciale non è un termine che mi piace perché per me non ha alcun senso se si vuol dare delle definizioni specifiche e se si vogliono chiamare le cose con il loro nome quindi di per sé già l'espressione tecno-commerciale non dovrebbe esistere A maggior ragione, entrando nel dettaglio, tecno-commerciale è uno simoro di per sé perché se è tecno non è commerciale Se è tecno vuol dire che si parla di qualcosa che ha a che fare con l'underground se è commerciale preferisco usare l'espressione mainstream però è un'espressione che si sente dire spesso tecno-commerciale anche perché in qualche modo rappresenta qualcosa La tecno è un genere che ha da poco passato i 30 anni è un genere che riesce ad essere molto costante e coerente con se stesso diciamo così pur con tutte le evoluzioni che in questi 30 anni si sono verificate quindi c'è una linea comune e tutta una serie di tendenze che si accavallano, che passano, che tornano eccetera fare qualcosa che è di tendenza oggi può essere ovviamente portare risultati, portare popolarità in qualche modo ma di contro può essere etichettato come qualcosa di più facilotto ecco che una tecno più facile, diciamo con un'espressione da dj, può essere chiamata tecno-commerciale cerchiamo un attimo di distinguere e di entrare più nello specifico il pubblico della tecno, gli appassionati della tecno, coloro che organizzano eventi o che partecipano all'eventi di questo tipo è un pubblico molto particolare, con un'identità ben definita e anche un certo senso di community nonostante tutte le varie differenze, distinzioni, sottogeneri, preferenze e in questo comunque universo di cui magari potremmo anche parlare nello specifico se la cosa ti interessa ci sono tutta una serie di distinguo ma una caratteristica particolare e distintiva è una passione forte per la musica, per il modo di sentire la musica e anche una conoscenza molto spesso non superficiale come avviene altrove di conseguenza se vuoi proporre tecno nelle tue serate o nei tuoi podcast o nei tuoi eventi sappi che hai di fronte molto spesso un pubblico competente o almeno interessato ad esserlo di contro ci sono tutta una serie di ipocrisie ci si avvicina la tecno molto spesso in età preadolescenziale nel quale tutto è sempre troppo commerciale, tutto è sempre troppo facile ma poi finisci per arrivare ad ascoltare sempre le stesse cose come anche chi si trova ad ascoltare la tecno di vent'anni fa che ora non ha più molto senso se si guarda ciò che viene proposto nei contesti veramente importanti del settore o gli stessi nomi che comunque sono riusciti a rimanere sulla cresta dell'onda dopo tutto questo tempo e poi l'ipocrisia principale è chi va con la maglietta tecno is not business quando in console c'è un DJ che prende 14.000 euro ecco forse c'è qualcuno che ti sta vendendo una realtà che non esiste o meglio si sta approfittando della tua voglia di appartenere a questa comunità raccontandoti che non sia un business beh business ce n'è e come se vuoi far parte di questo ambiente da protagonista sappi che devi essere un po' più ricercato del solito la tecno fa parte del mondo underground è uno dei generi che rappresenta il mondo underground di conseguenza se suoni qualcosa che le persone già conoscono c'è qualcosa che non va se vai a pescare brani nella top 10 di Beatport c'è di fondo qualcosa che non va perché prima di tutto se i brani sono in top 10 di Beatport vuol dire sono venduti e ascoltati ok ma chi li ha creati chi li suona sono alcuni mesi che li suona perché li ha portati in giro per tutto questo tempo e poi dopo li mette in vendita non puoi andare a sentire un DJ tecno e sapere cosa metterà perché altrimenti si tratterebbe di un altro genere e allora che senso ha la top 10 di Beatport tecno? beh secondo me non molto però in qualche modo i dischi più conosciuti più famosi che funzionano di più si trovano ad essere anche i più venduti ma non sono quelli che vengono suonati attualmente e neanche possono essere quelli che suoni te non puoi proporti per una serata nel quale chi sente il tuo demo conosce già buona parte dei brani non funziona non funziona per questo ambiente ci sono personaggi che funzionano di più che sono molto popolari e ci sono invece quelli che hanno un percorso tutto suo fatto di ricerca, innovazione e anche canali ben precisi molto settoriali parlando di genere ci sono tutta una serie di sfaccettature di cui si può anche entrare nel dettaglio però è evidente capire il contesto di riferimento e usare l'espressione come facile o meno facile può essere più coerente può essere più sul pezzo sicuramente il tipo di musica può essere più melodico come ora melodic techno che è uno dei trend del momento ma se è trend ora come abbiamo sempre detto vuol dire che è un po' già passato bisogna capire quale sarà il prossimo trend per proporre e per poter essere interessante e innovativo ci può essere quella più veloce, quella più lenta, quella più minimale è un mondo veramente vasto ci sono tutti gli artisti storici ci sono tutte le nuove proposte ci sono tutte le nuove tendenze ci sono i contesti più disparati chi si affaccia in questo pubblico specifico che poi anche varia molto in base all'età di chi abbiamo di fronte più giovani si tende ad essere più massimalisti salvo rari casi poi dopo per chi rimane con questa passione si affina un po' il gusto e allora è bene cercare di avere ben presente il pubblico a cui si può fare riferimento in sostanza per chiudere l'argomento è molto vasto ma cerchiamo di evitare espressioni che non hanno senso cerchiamo di raccontare la musica per quello che è per andare a definirla con termini musicali sia del tipo di serata, del tipo di proposta, del tipo di podcast ecc e cerchiamo anche di approfondire ogni singolo genere creando la propria identità specifica con la musica che si vuole proporre e giocando un po' con la sperimentazione e le varie sfaccettature fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continuo a seguirmi qui su Essere DJ Oggi grazie 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 grazie